La loro colpa è stata quella di manomettere un compressore, voi leggete i giornali e sentite le notizie, proprio in concomitanza di queste manifestazioni che in tutta Italia ci sono decine e decine, vengono fuori di nuovo queste sigle, i nuclei, gli armati operativi, ci diciamo, la Valsuza chiaramente ha detto chiaro e tondo che non c'entrano niente queste cose, noi oggi vogliamo dimostrare a quelli che ci vedranno e in particolare anche alla Digos che ci segue sempre come i nostri poletti, spiega veramente il flore di questi commissari. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutti liberi! Tutti liberi! Giù le mani dalla vostra terra! Giù! 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 No! Giù! Giù! Forza, queste reti non ci appartengono, non ci appartiene la cava, non vogliamo l'opera, ma ve lo diciamo chiaro, queste reti finché ci saremo le butteremo giù, basta con queste reti, basta con queste recinzioni, i soldi per quest'opera servono per fare altre cose, non confio come dobbiamo dirvelo, non faccio le reti, basta recinzioni, vogliamo essere liberi nella nostra terra, vogliamo essere liberi nella nostra terra senza ospare devastanti, ci rivedremo, il comitato oggi è stato raccogliato, deve avvenuto una grande partecipazione, e quindi è solo un inizio, le vostre chave, le vostre recinzioni troveranno sempre la nostra posizione, andiamo avanti, Forza, il corteo si sta sudando e arriveremo sempre, quando voi vi sarete con le reti, ci saremmo anche noi a tornerle, basta reti, basta cane! Grazie a tutti! Grazie. 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 Anna, dimmi via. Via. Dai, vieni. Ti stai, ti stai, ti stai. Ti stai, ti stai. Ti stai male, ti stai, ti stai. Ma per te lo vuoi? Ti stai, ti stai, ti stai. Lascia il pezzo che lo stai. Purtroppo, Gesù. Chiedi le donne, la destra, la destra. 연� cordava su. Bell blinker inろ, la destra. Due grid sidor. Purtroppo. Amicia. La, la stanza. Il, come nel nostro regione, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.